andiamo ciao 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 Ahah E tamo ima dva, četrisi tonalare Non posso dire che c'è uno? C'è uno? C'è uno? C'è uno? Ma non c'è uno? Ma non c'è uno? Ahah Quando c'è una pensione Pocco Pocco C'è lui il mio Sò è buono Sì, sì, sì. No Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.